Salve gente, io sono Blick e questo come al solito è melting top. Ci sono alcuni animali che in determinate circostanze sanno come sfuggire ai limiti imposti dalla gravità, se non altro nelle foto. Le immagini che state per vedere sono state create con una tecnologia di acquisizione fotografica che consente di catturare fotogrammi con tempi brevissimi di esposizione. In questo modo i nostri simpatici amici danno l'illusione di liberarsi da terra senza alcuno sforzo, sfuggendo così alla forza di gravità. Come sempre prima di iniziare vi ricordo che potete sostenerci con un mi piace e iscrivendovi al canale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.